Mary Jane ASMR Allora, vediamo Senti, sto leggendo che un ragazzo si è fatto male Sì, sì, fatelo passare Ciao Cosa ti sei fatto? Accidenti, ti sei proprio mal ridotto, eh? Beh, io oggi sarò la tua dottoressa, la tua infermiera Vi prenderò cura delle tue ferite Non temere, sei in buone mani Questa è un'infermeria stregata, come puoi vedere Qui tu tornerai a stare meglio Ma cosa ti sei fatto esattamente, scusami? Sei caduto mentre giocavi a calcio? Vediamo, vediamo, vediamo Aspetta, aspetta, metto i guanti, metto i guanti Perché vedo che c'è un po' di sangue Aspetta, aspetta Non temere, non temere mi prendo io cura di te No, non essere timido, non ti vergognare Io sono una dottoressa, questo è il mio mestiere Piuttosto mi dispiace che tu ora stia sentendo dolore Aspetta che vado a controllare bene, però mi devo mettere i guanti Non so mai, infetto la tua ferita Non vorrei mai succedesse Che infetto la tua ferita Tolgo anche le anelli Ma dimmi, racconta Cos'è successo? Stavi giocando a calcio E sei caduto Allora qua il braccio è Allora Il braccio ha subito un forte urto Non ti preoccupare Qui adesso mettiamo dal ghiaccio locale Lì c'è la gamba La gamba Eh, lì c'è un taglio No, però non c'è bisogno di mettere punti Sì, me lo dicono tutti che sono molto dolce come dottoressa Allora, allora, non ti preoccupare La cosa non è grave Ah, quindi un ragazzo mentre giocavi a calcio Sei caduto e per errore ti Hai È corso sopra di te Ti ha camminato addosso praticamente No, vabbè Comunque bisogna stare attenti Bisogna stare attenti Perché sia uno sport bello Però Purtroppo può causare problemi Allora Il braccio Il braccio Il tuo braccio Ah, ah Qui si formerà un livido, eh Te lo dico già adesso Però qui non è grave Mentre invece sulla gamba Io vedo un taglio Quel taglio adesso lo dobbiamo medicare Sì, stragati, stragati, stragati Così sono Lavoro più a mio agio Oh, mi dispiace che stai sentendo troppo dolore Ma è proprio tanto dolore Vabbè Io adesso vado a passarti questo Il massigelo Il massigelo sport Indicato per queste cose qua Della mia termica del dolore Questo Si va a spruzzare Nella zona Dove è subito l'urto Il danno E fa passare Diciamo Il dolore Ok Come vedi Qui c'è un ragazzo Che gioca a calcio Sì, per tutti i tipi di traumi muscolari Contusione Sentirai semplicemente un po' di freddo Basta E ti toglierà il dolore Diciamo Lucale Da lì Ok Ok Com'è la sensazione gelida Gelida Una sensazione gelida Sì, però Non ti preoccupare Ti togli quel dolore Che senti là Adesso però Ho bisogno di medicare Visto che ti sei sdraiato Ho bisogno di medicare la gamba Ok Resta tranquilli Vedrai che uscirai da qui Che ti sentirai meglio Allora Allora Andiamo a disinfettare Questa zona Questa ferita Sì È lesa È lesa Sì Acuta È lesa Andiamo a disinfettare Questa ferita Con questo Delicato Non brucia Questa ferita Questa ferita Esponimi la gamba meglio Esponimi la gamba meglio Ti devi scoprire un po' Tanto sei già Pantaloncini Con i short Quindi Allora Io adesso Non ti farò male Ok Non ti ho chiesto neanche Come ti chiami Come ti chiami Federico Ok Federico Allora Io adesso Non ti farò male Però Potrebbe essere Che tu Senta Questo è molto delicato Questa Quest'acqua È molto delicata Questa soluzione È molto delicata Però data che la ferita Anche se non ci vogliono Dei punti Però è leggermente profonda Può darsi che tu Senta un po' Di bruciore Ok Però stai tranquillo Perché avvertirei Solo per qualche secondo Questo fastidio Però è per il tuo bene Ok Stai sentendo ancora Dolore Forte Sì Possiamo fare Un antinfiammatorio Non ti preoccupare Possiamo fare Un antinfiammatorio Sì Meglio Se facciamo L'iniezione Arriva prima Diciamo Fa più effetto Allora Federico Adesso Ho bisogno Che tu stia fermo Perché io Devo andare A disinfettare Non contrarti Troppo Ok Lo so che potrà fare Un po' Male Però Ripeto È lieve Peggio Di quel dolore Che stai sentendo Adesso Prima di venire qua Quando ti sei fatto male Non sarà Prima di venire qua Ok Un po' di sangue Prima di venire qua Brugia forte Brugia forte Vabbè Non ti preoccupare Adesso Ci sono io a curare Le tue ferite Ok Allora Non è uscito Molto sangue Come vedi Come vedi No è solo l'apparenza Non ti preoccupare Adesso Non so cos'è questo rumore Cos'è Fine della palestra La palestra Tra vicino al campo sportivo Sì Al campo da calcio E vabbè Adesso Però Io ho bisogno Di farti un'iniezione Per far sì che tu ti senta meglio Ok Sì Perché ho capito che Il dolore è forte Infatti devi preoccupare Innanzitutto Andiamo a mettere Prima dell'iniezione Andiamo a mettere un cerotto Sì Purtroppo Questi incidenti Quando si gioca a calcio Possono capitare A mettere un po' la ferita Vabbè Sì Credo che ne basti uno Cerotto Meno male che si è venuto qua No mai andare a casa Quando ci sono queste cose qui Perché non si può mai sapere il tonno Ok 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 Adesso vediamo facciamo un po' l'iniezione allora andrò a farti questo antinfiammatorio che agirà subito cioè tu fra dieci minuti inizierai già a stare meglio con questa iniezione ok? sì 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 non ti preoccupare, non temere hai paura degli aghi? no? fatela passare la paura degli aghi su su, dai sei un ragazzone bello grande e grosso fatela passare questa paura questa paura voglio fare devo togliere i guanti perchè non riesco ok? ok non ti farà alcun male la sirica, non ti preoccupare l'ago è praticamente in dolore ok si sta tranquillo ok facciamo uscire un po' di liquido poi poi vado a disinfettarti lo solo in questo altro dischetto ok? ok stai tranquillo eh rilassato e sereno a posto ora stai fermo 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 che io vado a fermo 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 e tornerai a stare meglio sta attento la prossima volta però quando giochi ok? quando sei a calcio a giocare mi raccomando non voglio vederti qua altre volte ciao mi raccomando a te non parte più troppo male non parte più troppo male non parte più troppo male non parte più troppo male